Ok, questa partita credo che sia una delle più belle partite finora, perché non lo so, però a me è piaciuta sta partita Vabbè comunque ragazzi, buon anno, perché non so se avevo già fatto gli auguri, però comunque buon anno, buon 2020 E riguardo alla partita, mi è piaciuta veramente tanto questa volta Possesso palla direi, aspetta, non so se ci sono, praticamente c'è un app sul telefono, non so se ci sono le statistiche Però, ecco sì, le statistiche, possesso palla 63% Juve, quindi comunque ha giocato, non dico solo la Juve, però ha tenuto palla praticamente solo lei Gol di Ronaldo, Ronaldo, Higuain e Ronaldo La partita è finita 4-0 Il primo gol, praticamente ero davanti alla TV, però stavo guardando il telefono, quindi non ho visto il gol Però, in senso, l'ho visto poi sul telefono, su YouTube, eccetera Mentre il gol di Ronaldo, secondo me, sì, era fallo, perché dovevamo dirlo, era fallo E quindi il rigore ci stava e, vabbè, un gol abbastanza semplice Poi Higuain, bellissimo gol, secondo me, bellissimo Perché ha tirato anche non molto forte, secondo me, però comunque ha trovato la porta e Perché Olsen poteva fare meglio, poteva fare molto meglio Poi Ronaldo, il minuto dopo, tipo, da quel gol, pensavo Oh, questa volta la Juve vince 5-6-0 Invece, vabbè, 4-0 Ronaldo, bel gol anche questo Bel gol anche questo I cambi sono stati Matuidi, Ramsey e Dybala sono usciti È entrato Emre Can Poi, forse vi farò un video dove parleremo del calcio al mercato Higuain e Douglas Costa Mentre per il Cagliari è uscito Cacciatore, Cigarini e Simeone È entrato Cherry, Faragò e Oliva Comunque, secondo me, la partita l'ha giocata solamente la Juve, secondo me A parte, ci sono state qualche azione, però No, in realtà, se devo essere sincero, c'è stata qualche azione del Cagliari, però Non mi ricordo che minuto, però Mi ricordo che Scesni Mi ricordo Sì, mi ricordo La traversa E il palo al minuto finale circa di Di Gio Pedro E qualche altra azione, ma comunque Scesni è riuscito a parare tutto Ha giocato molto bene anche Scesni, se devo essere sincero Non lo so, però Dopo le vacanze La Juve Fa una buona partita Il panettone ha funzionato Panettone Vabbè, comunque E niente, questa è stata la partita La prossima partita sarà Il 12 gennaio All'Olimpico contro la Roma Speriamo di fare bene Speriamo Poi Poi vediamo Comunque, se devo farvi Aspetta, ragazzi Volevo parlarvi un attimo dei marcati Praticamente Grazie a questi tre gol di Ronaldo Ronaldo è secondo marcatore Non so se si vede Ah no, ma cosa Non so se si vede Ma immobile è primo Mentre Ronaldo è secondo Lukaku è a 12 gol Terzo Gio Pedro Con 11 gol Quarto E quinto Muriel con 10 gol Vabbè, comunque, raga Le partite di oggi sono state Vi riassumo anche questa Velocemente Perché mi mandano i messaggi Però va, fa niente Sono state Oggi è lunedì Quindi Bologna-Fiorentina 1-1 Atalanta-Parma 5-0 Atalanta 4-0 Juve-Cagliari Poi Milan-Sampdoria Poteva essere un buon debutto Perché comunque Dopo tanti anni Ritorna Ibra Comunque 0-0 Ora dovrebbe Tra mezz'ora dovrebbe giocare Lecce-Udinese E poi Napoli-Inter Questa sera Questa sera Se riesco Vi porto Napoli-Inter Se riesco Poi Poi vedo Ma comunque Penso 50% Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima